Bella a tutti ragazzi, oggi siamo su un nuovo video sempre con The Clipper Bella a tutti ragazzi Siamo sempre su FIFA World e c'è quello che è uscito dal cesso E poi il Super Sorari che era un portiere, vedi che era un portiere? Si, infatti Però c'è un Morgan de Santis, è Gesù Capco 2 Vabbè, mi ha fatto... ah cavolo, vabbè io ti devo fare quello del lag Sti cazzi con il ragazzo L'altro episodio gli abbiamo fatto uno, no uno a uno ragazzi Faccio tipo che bugio del culo, tipo sono cantati Ah no, ha fatto bello l'angolo Cos'era tipo... Poi vabbè quello dell'altra squadra ha fatto un po' schifo Ah è vero perchè... nooo, questo è un altro senso contratto Oh sono rimasto senza contratti, se mi devi rompere uno sblocco Ma tanto questo qua come ti fa? Ah questo è un WG, ma che cazzo? Almeno è un po' più d'intesa Ok prendi allenatori del Brasile Ma cosa che... eh un attimo Il WG? Ah questo è del C... no è di... si de... No è di Lungheria eh Ma che cazzo sta qui? Eh apposta Vabbè ma io non capisco che cosa servono gli allenatori Ti aumentano... se tipo c'è quello di Gesù Ti aumentano... ti fa diventare un po' più forte la squadra No... ti fa diventare pure un po' più forte la squadra Ok... vediamo cosa incontriamo Gesù Cristo Da oggi dimmi cosa c'è Cristiano Ronaldo Tos Messi Tos Per Marbella No ma io ho trovato... io ho trovato una squadra tutta oro E alla divisione i 10 E l'ho... l'ho battuta Ma io pure? C'è no... ma perchè alla divisione i 10 c'è tutta la squadra oro con Marcello e tutti No ma perchè rimani al diviso Ma io gli ho spaccato il culo a uno che c'eva tipo Negredo, Suarez in attacco Cacau e centrocampista Vabbè poi Gesù un Curtuà in porta Calcola io ho fatto la mezza rovesciata con Rubini Ho vinto 1 a 0 Sì Non giuro eh Beh Rubini è forte Voi ti mette nei colmi visi Per buon botto Tutto quello non stesso Questo c'ha... Ah ma sempre questo trovo Che poi... Ehm... Non è che c'era forse Chi è arrivato? Chi è arrivato? Ah è il controller L'impostazione di controller Che sa giovedo No perci No vado alla capezza No questo è tipo Martina sembra che ha visto un culo Oh mio mio Quest'altro che sta a ridere Toledo Vediamo Ma questo sembra un maiale Maiali calo Maiali Un maiale è vero Un maiale Un maiale Beh non devo rivedere Non so incoglioniti ancora eh Cioè ci sentono eh Nice to have you with us Martin Tyler here And Alan Smith Andiamo a chi Che cosa si c'è Ma se hai fatto qui la posso gioca bene Dai 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 Ehm Gigi Oh E questa è Pughe da arrivare Qua questo lo scopo Si Ma ho pensato Se non c'è baggiato Però ho di polimare Questo Eh Crossa qui di grassa Crosse In tiro Zero Cos'è? Nooo Nooo Non ho sentito Non ho avuto Un a zero Un a zero Un a zero potetevi il mio cuore gli umani dollari manda qualcuno al pubblico come è il suo figlio faccio così mamma non tieni due cirobun il portiere ci crede il portiere ci crede il portiere ci crede e anche con uno scarpe con noi che ha pure e avanti ok ti brucia l'alcubb come vedo con precedente abati corri nooo se mi fa incontrata la merda rosico ma ci vuoi non usci ecco ho detto vai ma sta accendo ma al culo pezzo di merda il coltino è merda il coltino è merda il coltino è merda ma che c'è il coltino è merda ma guarda che c'è stanza come fa? io fa pure quella che casca a morto guarda 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 una mano nella capesta nooo muori muori ah hai subito che t'ha fatto male finita addio youtube eh addio dai ragazzi vabbè dai vabbè dai vabbè dai vabbè dai vabbè dai vabbè dai si sa pagarete dai quindi il video termina qui vabbè dai ci vediamo al prossimo video mi vuole il cuore ballast vabbè al prossimo video bella